Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono code a tratti tra la Strassigna, Firenze e Scandici in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 code tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Fare attenzione per Nevischio sul tratto appenninico. Sulla statale Trebis-Tiberina ci sono rallentamenti per una nevicata in corso tra Val Savignone e San Piero in bagno in entrambe le direzioni. In A15 nebbia a banchi tra Berceto e Pontremoli, visibilità a 70 metri. A Firenze per le prove di transito del tram sulla linea 3 da Careggia a Piazza Dalmazia ci sono chiusure temporanee degli incroci, limitate al tempo di passaggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!